Bisognerà attendere l'insediamento del Consiglio Comunale per conoscere i nomi degli assessori dell'Aggiunta Greco. Ma attento alla proclamazione ufficiale del nuovo Consiglio Comunale nella sua interezza, dopodiché saremo attenti a convocare prima possibile l'organo istituzionale Consiglio Comunale, valuteremo tutto quello che c'è da fare anche per quello che riguarda l'Aggiunta. In questo senso avremo modo nei prossimi giorni di parlare con tutte le forze alleate sia civiche che politiche che hanno condiviso il progetto e sono convinto, come abbiamo sempre fatto, a trovare la giusta convergenza per individuare la migliore squadra da mettere in campo e iniziare a lavorare seriamente per dare risposta alla città. Il primo cittadino preferisce sorvolare sulla confusione arrecata dalla legge elettorale, che sicuramente avrà strascichi giudiziari con l'annunciato ricorso dell'orme ex consigliere Sara Cavallo, rimarcando comunque la propria fiducia sull'operato di Lido Conti. Ho il rispetto del lavoro fatto dalla Commissione elettorale, dal Presidente Dottor Conti. Sono certo che lui, da persona autorevole e qualificata qual è, avrà fatto le giuste scelte sulla base sempre del rispetto della legge e possibilmente anche della giurisprudenza più recente che ovviamente privilegia un orientamento piuttosto che un altro.